amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive avete una swift l'ennesima swift e volete migliorarne le prestazioni la swift è la macchina più gettonata in assoluto andatevi a vedere quanti filmati abbiamo fatto e solo una piccolissima parte di tutte le switch che ci sono entrate ormai le swift le conosciamo come le nostre tasche se siete interessati a vedere cosa abbiamo fatto anche su questa swift color canarino seguiteci nelle video sigla ecco quindi dicevamo questa è l'ennesima suzuki swift 1400 sport hybrid che è una delle macchine che più gettonate che ci arrivano recentemente forse soppia tanto le le giulietta che erano veramente avevano il palmarès di numero di vetture sulle quali lavorare adesso le swift sono veramente lì a un'incollatura ne abbiamo fatte veramente tantissime allora abbiamo anche girato un video recentemente sulla stessa su un'altra macchina rossa dove vi abbiamo fatto vedere sia il prima che il dopo in questo caso per questioni di coincidenza non abbiamo potuto far altro che farvi vedere il lavoro terminato e quindi ve lo elenchiamo allora rispetto alla vettura rossa che comunque potete andare a ritrovare appunto sul sull'artivio del canale alcune cose sono state è stato fatto un lavoro analogo a quello precedente con alcune cose diciamo in meno e una cosa in più in sostanza il cliente ha voluto riguardo all'assetto un assetto completo cioè sempre il solito discorso dei bilsten monotubo al posto dei bitubo originali e come l'altra macchina e rispetto all'altra macchina il cliente ha voluto vedete eibac pro kit ha voluto anche abbassare la scocca della macchina cosa che sull'altra vettura il cliente ci ha chiesto di mantenere le molle originali quindi diciamo che in questo caso l'assetto è stato fatto in maniera più completa per il momento abbiamo lasciato tutto quello che riguarda l'impianto frenante stock perché è nuovissimo non c'è neanche un gradino è veramente molto onestamente è un peccato andare a toccare un disco praticamente nuovo quindi aspetti abbiamo suggerito al cliente di aspettare a consumare il materiale quando poi sarà da sostituire lo sostituiremo ovviamente come abbiamo fatto sulla sulle precedenti vetture macchina che era già tagliandata quindi anche il tagliando rispetto a quell'altra vettura non è stato fatto il discorso motore per il momento è in stand by e andremo eventualmente a farlo in un prossimo giro motore intendo solito discorso centralina celtron performance e chip box e pedal booster scusatemi non chip box quello che invece abbiamo fatto come al solito è il classico terminale tutto tubo sempre ragazzo performance che va a eliminare i rompifiamma presenti di serie questo è un tutto tubo lineare che poi si va a aggiuntare sulla parte posteriore con un silenziatore più piccolino omologato qui rilasceremo al cliente alla fisca di omologazione e con le due uscite da 114 in carbonio che si vanno a incastonare perfettamente direi che proprio è un'opera d'arte questa c'è proprio un dito di separazione carbonio su carbonio devo dire è una delle macchine che mi piace di più esteticamente perché la va a migliorare in maniera notevole lo scarico di serie è veramente molto poco appagante ha questa difettosità di avere lo scarico troppo piccolino e mi sembra un po' quelli scarichi mediochi come quelli che ci sono sulle 500 abart o sulle alfa stelvio dove c'è un tubo che diventa più piccolo tutto a vista una porcheria che secondo me potrebbero veramente con pochissimo evitare per cui direi che abbiamo fatto come dicevo come al solito un intervento in questo caso più parziale abbiamo toccato la parte motore però solamente come scarico e abbiamo invece toccato la parte assetto in maniera completa gli altri tipi di lavori saranno da fare in progress successivamente in autunno quando il cliente riterrà più più opportuno per cui direi che anche per questa swift giallo canarino è tutto oggi è tutto vi invitiamo a cliccare sulla campanella sotto mettere un like che per noi è sempre molto importante e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo per il momento un saluto alla prossima per la prossima Grazie a tutti.